L'opera è Beuys, l'opera è l'artista e niente di più, o meglio, niente altro. Lui si propone al grande pubblico in abiti niente da cerimonia, in abiti quotidiani, in abiti non da artista. Lui è in qualche modo alla scoperta di quel mondo che definirà poi le radici del mondo di tutti noi. Un autoritratto che racchiude l'essenza dell'artista, quella tipicità che fonda l'artestezza di Josef Beuys e che come una firma inconfondibile caratterizza tutte le sue opere. La fondazione Ivan Bruschi apre le porte al contemporaneo e lo fa con una mostra che ripercorre i gesti, le azioni e i documenti iconici del maestro europeo del secondo novecento a trent'anni dalla sua morte. L'esposizione sarà inaugurata domenica 10 aprile e sarà visitabile fino al 12 maggio. A Casabruschi c'è stata l'arte contemporanea già da qualche anno, però adesso viene fatta in modo consapevole, voluto e corrispondente ad un indirizzo che è quello di privilegiare il venire incontro agli interessi anche di una fascia di età, quella dai 16 anni ai 25 ai 30 anni che sino ad oggi è stata un po' più trascurata rispetto alle altre fasce di pubblico. Un artista tedesco, un artista alla cui opera non è mai stata ad Arezzo per una ragione, perché è un'opera importante senza essere eclatante, un'opera che ha dato i Natali a tutta la seconda metà dell'estetica del Novecento, come Duchamp a quella del primo Novecento, Beuys a quella del secondo. In America c'era Warhol, in Europa avevamo Beuys, uno sciamano dell'arte lo definisce qualcuno, un personaggio mitico in qualche modo sempre sopra le righe, una persona che ha saputo con la sua vita parlare d'arte, quindi i gesti quotidiani, i gesti tipici che diventano atipici della grande arte contemporanea. Grazie. Grazie.